ciao a tutti dal vostro ice e bentornati o benvenuti sul mio canale allora sniper lead 5 ragazzi vi porto la video guida a tutti i collezionabili nella missione numero 3 accademia delle spie vi ricordo che in descrizione trovate tutto il necessario e minutaggio il nome e quant'altro per ogni singolo collezionabile quindi confrontate con quello che vi manca cliccate lì e andate a prenderlo perfetto dai partiamo allora il primo lo troviamo quasi subito all'inizio dalla missione dove abbiamo lo spawn andiamo avanti scendiamo da lì guardate come avete due possibilità sinistra o destra date sua destra praticamente andate alla fine dove c'è il veicolo il camion lì parcheggiato e lo troviamo lì a destra il numero uno è fragile non rompere poi il prossimo siamo la già nel nel nucleo diciamo quando sta indicando adesso trovate mi sembra il piede di porco o le tronchesi non mi ricordo esattamente vedete qua questo dove c'è questo edificio uscite dalla parte di là dove sono io adesso e qua troviamo la prima aquila di pietra alzate lo sguardo ed è lì sopra ho la presa al volo proprio passiamo al prossimo partendo da qua andiamo su dove c'è la curva andiamo a prendere il numero 3 problemi di parcheggio guardate su qua che c'è la piccola piazzuola lì a destra ci sono anche un paio di veicoli qua nel cestino da parte della panchina è lì ho la preso il prossimo lo troviamo ancora qua in zona qua abbiamo preso l'aquila lì abbiamo preso quello di prima passate lì sotto poi salite nella torre che c'è lì dove sono io adesso mi trovo all'uscita dalla torre di sopra e là ci sono i due nemici tra cui uno è il Dominic Kunkel Kunkel se lui ha la lettera personale il numero 4 è non fare tardi se non date all'allarme lo trovate lì altrimenti lo trovate altrove comunque il nome è quello lì che vi ho indicato prima avete visto qua tanto per non esagerare con lanciamissili collezionabile comunque non hanno un ordine cronologico ve li ho portati un po' come li ho trovati voilà non fare tardi trovato mai farà tardi perché è lì purtroppo farà tardissimo partendo da questo andiamo a prendere l'altro numero 5 mazzo di Kriegsmarine subito dentro qua dove c'è questo bar tratte dietro trovate qua sul tavolino al centro del bar centro in fondo mazzo preso e via va alla posizione caso mai poi passiamo al prossimo andate avanti dal bar salite per andare su qua dove sono io qua c'è l'armeria che buono va beh se non l'avete sbloccata non lo vedete l'icona quindi non prendetela come spunto qua è il posto di blocco sul ponte la zona da giù là venite su vedete su quadro c'è la barriera eccetera dovete entrare lì nell'edificio lì a destra qua troviamo il numero 6 pacchetto ad alta priorità da prossimo mettendo giù al centro un po' del nucleo troviamo il numero 7 armeria esposta e il numero 8 non parteciperò esattamente lì dove sto indicando adesso ora se arrivate da sotto entrate da lì altrimenti da sopra scendete eccetera guardate qua questa zona lì c'è anche un camion cisterna che se lo fate saltare lo vedete come adesso fa saltare il ponte eccetera dovete salire in quella torre qua davanti una volta che arrivate su non potete sbagliare non potete andare altrove sono qua tutti e due qua il primo l'armeria esposta e da qua prendiamo il prossimo che non parteciperò voilà perfetto prossimo ragazzi partendo da due abbiamo preso quello di prima lì c'è il camion che cisterna che ho fatto saltare continuate ad andare su verso nord arrivate su c'è questo veicolo rosso andiamo a prendere il numero 9 cioè prendere oddio è lì impostazione di lavoro dalla mitraglietta dal veicolo rosso girate a sinistra salite qua al muretto e poi andate fino in fondo entrate qua eccolo qua si la mia è 3 su 3 perché era l'unica che mi mancava alla fine poi andiamo ai prossimi due troviamo sulla chiesa proprio in cima potete salire fare un po di scale troviamo il numero 10 partecipa almeno una volta e il numero 11 richiesta di risorse arrivate su in cima ci sono questi due nemici per cui questo ufficiale che ha il collezionabile quello lì si chiama Mattias Brühl caso mai che date l'allarme che lo trovate potete trovare altrove non qua magari è quello lì Mattias Brühl poi da lì andate qua sul tavolino e troviamo richiesto di risorse voilà andiamo ai prossimi due proprio nell'attore che troviamo lì a est lì c'è la chiesa c'è la corda per scendere la funerica mi ricordo come si chiama scendete poi salite qua dove c'è questa torre qua troviamo il numero 12 sono soldi facili e 13 l'aquila di pietra entrate qua trovate sul tavolino voilà poi da questo qua affacciate qua dove davanti vedete la chiesa girate lì leggermente a destra del del castello e lì sulla torre troviamo l'aquila di pietra poi prossimo io sono tutto a nord del complesso dall'altra parte praticamente dalla mappa da dove spawniamo qua c'è una torre con su un cecchino troviamo l'aquila di pietra collezionabile numero 14 o scendete da lì arrivate qua oppure anche dalla torre lì scendete venite qua passiamo ai prossimi due 15 bussola decorata 16 scenari di addestramento trovate a nord del castello lì dove è indicato adesso c'è il tipo con la chiave per aprire la cassaforte o sennò sembra che anche la carica saccia il vada bene poi da qua dalla bussola decorata girate e andate qua sul tavolo troviamo l'altro collezionabile prendita la chiave dalla cantina scendete in cantina poi andiamo a prendere il prossimo che è il numero 17 postazione di lavoro per il fucile dovete salire da dietro praticamente da nord a parte dell'edificio dovete salire fare un'arrampicata per arrivare su lì perché c'è la porta c'è una porta ma è chiusa con il lucchetto dall'altra parte quindi bisogna per forza salire da sotto arrivate su ed è lì prossimo lo troviamo dall'altra parte di dove c'è la postazione per il lavoro di fucile qua da l'altra parte dell'edificio tra l'edificio qua e il castello ho fatto un massacro io ah 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 ad Alide mamma mia entrate qua andate al piano di sotto qua sul tavolo che c'è lì a sinistra troviamo il collezionamento è il numero 18 manuale delle missioni segrete sul campo poi il prossimo ed è anche l'ultimo il numero 19 la postazione di lavoro per le pistole trovate esattamente lì dove sto indicando io c'è l'armeria mi pare andate lì aprite o con la chiave se ce l'avete o se no con la carica satchel e via ecco ragazzi era tutto ci sentiamo nel prossimo video statemi bene ciao ragazzi grazie a tutti Grazie.